Gentili telespettatori, buona giornata. Crisi di governo, trattative. Al Senato nasce un nuovo partito. Per far nascere un nuovo partito al Senato servono 10 senatori, mentre alla Camera dei Deputati ne servono 20. Raggiunti appunto i 10 senatori, il nuovo partito si chiama europeisti. Non ci sono stati spostamenti di parlamentari in aggiunta alla maggioranza, ma vediamo di che cosa stiamo parlando. Mancano 7 per arrivare alla maggioranza assoluta al Senato, cioè i senatori sono 154 i senatori della maggioranza. Quindi sì, si è formato un nuovo partito, proprio quello che diceva Mattarella, un nuovo partito in modo che i senatori mercenari non siano sparsi qua e là, ma siano un'entità politica. Sì, però mancano 7 mercenari che loro chiamano costruttori, mancano 7 costruttori, costruttori edili, nuovi, 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 che decidano di imbarcarsi in una nuova avventura. Beh, diciamo che il numero, se non si materializza, i problemi sono abbastanza seri per la maggioranza, anche perché una delle condizioni poste da Mattarella è proprio quella del raggiungimento, quella del raggiungimento di numeri certi che possano garantire almeno anche la maggioranza assoluta. Diciamo che molti hanno fatto delle mezze promesse, mezzi abboccamenti, mezze losing, smentite pubbliche. A chi credere? A credere a Mastella che dice che i Viet Cong sono praticamente questi mercenari che si materializzano solo all'improvviso e all'ultimo, non si dice certo prima che uno cambia partito per non crearsi problemi da solo. Beh, a Palazzo Chigi tra i costruttori l'aria che gira è quella di scoramento per una battaglia che è diventata una guerra, dove ogni giorno si fa un passo avanti e un passo indietro. Vi ricordate? Abbiamo trovato un po' di costruttori, un po' di mercenari e poi addirittura al Senato erano scesi a 145. Al posto che crescere erano scesi. Se va avanti così, dice qualcuno di questi mercenari, ma lui si reputa un costruttore, costruttore del proprio stipendio, dice se va avanti così siamo spacciati. Spacciati cosa vuol dire? Che finisce il loro stipendio, si va alle elezioni e loro vanno a casa, che non sarebbe neanche una cattiva idea. Ma Conte non pare più adesso diventato intoccabile. Se sentite Spadafora, Vincenzo dice adesso Conte è il nostro candidato. Adesso, dice, il tempo della politica può essere adesso, ma è già passato. Dicendo adesso Conte è il nostro candidato, adesso, ma fra un minuto potrebbe essere un altro. Ma forse questa sottigliezza che i giornali fanno notare. Spadafora ha detto adesso, quindi forse è un po' troppo, diciamo che per alcune persone è un po' troppo dire, fare queste valutazioni. Magari lui l'ha detta così senza neanche pensarci su. Non è un filosofo dell'italiano che dice ho detto adesso, ho detto una finezza, chissà se l'hanno capito. Probabilmente ha detto adesso, ma non voleva dire niente di strano. Anche se non ci fossero nuovi senatori che transitano dall'opposizione, un nuovo gruppo sarebbe fondamentale per avere la maggioranza alla capigruppo e contare di più nelle commissioni. Il nuovo gruppo sarà formato da due componenti. Il MAI è il centro democratico di tabacci e si chiamerà probabilmente, come dicevamo, europeisti. Paola Binetti spiega il MAI lavora ai singoli senatori. Il centro ha un progetto politico che potrebbe attrarre l'Udc e pezzi di Forza Italia. Dopo il governo giallo-verde e quello giallo-rosso, ora ne serve uno giallo-bianco, con una forte presenza centrista. La Binetti, Binetti, ci crede, dice è un momento decisivo anche perché Mattarella sarà l'ultima scelta importante prima della fine del suo mandato. Dicono che la Binetti aspiri al Ministero della Famiglia. Dice non l'ho mai chiesto e non credo che me lo chiederanno mai, anche se alla famiglia non ci sono candidati, mentre per l'agricoltura c'è grande affollamento. Mercato dei ministeri, avete capito? E la lira si impenna, diceva un comico in televisione. Intanto corteggiano anche Cambiamo, che potrebbe anche cambiare area politica. Non c'è tutto questo affollamento tra questi mercenari, diciamocela tutta. Allora si lavora per attrarre nuovi parlamentari. C'è Paolo Romani, Gaetano Quagliariello del gruppo Cambiamo, che smentiscono l'ingresso in maggioranza. Potrebbero farlo con un altro premier, non con Conte. Ma che vuol dire un altro premier, non con Conte? Parliamoci chiaro, questa gente è solo in ricerca di uno stipendio per il futuro. Quando cominciano a dire non con Conte, ma con un altro premier, sembra quasi che qualcuno gli abbia detto di dire così. Io ti prendo tra i miei senatori, però tu continui a insistere con questa linea perché a noi serve che Conte venga fatto fuori politicamente. Insomma, che questi due senatori di Cambiamo dicano con un altro premier, non con Conte, non mi sembra farina del loro sacco. Loro cercano uno stipendio. Cosa gliene frega Conte o non Conte? Anche se ci fosse lì ciccio pasticcio non gliene fregherebbe assolutamente niente. Stesso discorso con l'Udc, anche se la Binetti sembra meno incline di altri a sottilizzare appunto Conte o non Conte, chi se ne frega, come vi dicevo. La verità, spiega un senatore al lavoro, è che se Conte avesse preso il mandato esplorativo avremmo la fila di persone per entrare. Ma con le consultazioni i giochi sono aperti e anche il centrodestra resta compatto. E sì, perché Mattarella non ha rimandato indietro Conte con un mandato esplorativo? Ha detto adesso faccio le consultazioni e decido io. Questa è la differenza. Conte non è tornato con un mandato esplorativo, almeno per il momento. Poi c'è il problema anche di Forza Italia, che smentiscono e non smentiscono. Si parla addirittura di 5-10 senatori, ma nessuno ormai ci mette più la mano sul fuoco. L'unica certezza è il gruppo Maie-CD. Potrebbe essere composto dai 5 già iscritti al Maie, il sottosegretario Merlo, De Boni, Scairo, Bucarella e l'ex Forza Italia Fantetti, a cui si aggiungerebbero De Falco, Salgabordo, Ciampolillo. Ormai è diventato famoso come Scilipoti e Razzi, Ciampolillo. È quello che insapona gli alberi con la xylella, no? E i due ex Xurri, Caosin e Rossi. Rossi, quella che viene chiamata un po' in maniera la badante, la ex badante di Berlusconi. Gira anche la voce che si stia provando a convincere un senatore del PD a cambiare casacca per aumentare il numero, no? Anche il senatore del PD, vabbè. Diciamo che il pallottoliero rimane fermo a 154, 154. Questi dieci senatori, mezzi mercenari, mezzi costruttori, no? Mezzi terminator, dice chi sei? Terminator di prima generazione. Rimangono comunque a 154. Ecco, il conto non cambia. Per i conto se ne occupa mio zio Antunello. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.